ma non mi piace a me non mi piace a me queste cose ma non mi piace questo va a portare oggi c'era il regionale a Malpensa vai a Malpensa ci sarà un casino così? è chiaro oh guarda guarda apri tutto oh devi saltare oh scusa devi tagli devi tagli come se fosse un sasco guarda 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 ma devi saltare con il davanti no con il dietro non è stata né uno né l'altro né uno né l'altro ma non è un po' 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 e così mi ammazzate nel salto dei funghi questo non gli dai lui c'ha firma non gli dai eh devi dargli figaro se lo prendi troppo in lì è peggio perché è troppo alto devi dargli un casino ma che lì è pericoloso è pericoloso lì eh guarda dove sono